Commissario Aldenzi è entrato in questa serie perché dopo tanti anni c'era stato questo rapporto col produttore, con Pietro Volsecchi, che mi ha proposto un poliziesco, ho detto ma veramente un altro non c'è, vengo da... e allora mi ha fatto leggere questa cosa, che il protagonista era un commissario X e allora ho semplicemente proposto, invece di fare il commissario X facciamo Aldenzi che rientra, tanto era stato io nella storia, ero stato trasferito a Palermo, torno a Roma, a capo della squadra mobile, quindi così è stato. Non mi è mancato un po' il personaggio? Mancato no, non mi è mancato, però l'ho fatto volentieri, quando te li metti un paio di scarpe vecchie che sono comode, ecco, questo qui è stato, con un cast completamente diverso, con attori che neanche conoscevo, adesso siamo ovviamente tutti ottimi amici, però insomma è stato... ma è il trasferimento, sai quando te capita il trasferimento, che ne sai chi trovi. Si riformerà la coppia con Mauro Belli? A me piacerebbe, ma non è stata proprio presa in considerazione l'ipotesi, il produttore di tanto lancia delle bombe, consapevolmente, dicendo che tornerà a Memphis, Memphis ci pensa per niente, farebbe così con gli occhiali, come fa lui. Tu ne hai parlato con lui? Sì, sì, ma a parte c'è altri impegni, ma poi è una... sono cose che vanno stabilite anni prima, non è che uno... facciamo, sì, facciamo. Non c'è altri impegni, io c'ho altri impegni, tutto messo, diciamo, appunto stiamo a cercare tre mesi per poter fare una... quindi non credo che sia una cosa fattibile. Non so se hai visto qualche giorno fa in TV Totti, lo stesso che ha fatto a Pjanic. Certo. Dov'ho dire se come attore è capitato? Io ho sempre... a me... poi con gli occhi miei, per me poi fa tutto, gli faccio fare un letto, io sono sicuro che alla fine batto le mani in piedi. C'è un'ironia... beh è cambiato, se tu pensi com'era quando ha cominciato, era timido, adesso, sfrontato, quando fa quelle pubblicità, è fatta... a me mi fa ridere perché vedo che recita, che si sforza, che è una cosa che a me piace tantissimo, mi piace tantissimo lo sforzo che fa e poi è spiritoso, è altruista, è un fenomeno. Poi c'è l'espressione. No, ma guarda, Totti veramente è stata una cosa bellissima. Io ne sentivo parlare che lui era ragazzino, 15-16 anni e già se sentiva allo stato, diceva c'è un ragazzetto, c'è un ragazzetto, c'è un biondino. E poi quando l'abbiamo visto, sai, quando nasce così, nasce a Roma. Per questa è la cosa, perché sai quanti ce ne stanno? Uno che nasce a Roma e decide di rimanere da tutto alla Roma. Quello che, diciamo, che io vorrei fare per Roma... Beh, poi non è detto che se me capita appunto un'altra cosa non la faccio, però sicuramente per quello che riguarda le mie cose come autore, per il teatro, per la musica, eccetera, io tenderò sempre a lavorare su Roma per Roma, per i romani. L'amore per Roma. Sì, assolutamente. Beh, per la tradizione, per le radici, è qualcosa di più profondo anche. Senti, se magari Erichy Memphis continua a dire no... Vieni te? No, Totti. Totti? Eh? Certo. Ce lo vedresti? Per niente. Per niente, perché quel lavoro lì è veramente massacrante. Diventi... Veramente fa... Faticate meno a fare gli scaloni con Zeman. Perché c'è qua veramente un fisico bestiale. E così dura, eh? Eh beh... Dieci ore al giorno, fai tre, quattro, cinque scene ogni giorno, alcune sono d'azione, altre sta in commissariato, cioè hai quattro, cinque pagine di dialogo, dura sei mesi, insomma, no? Eh, ma poi, come diceva Mastroianni, è sempre meglio che andare a lavorare.